Salve amici e benvenuti in questo nuovo video, siccome oggi è il 31 ottobre, oggi faremo un video di Halloween. Halloween è da tutti considerati la festa più spaventosa dell'anno, oltre Capodanno che ho anche paura io, ma comunque, andiamo avanti. Cosa vogliamo parlare di Halloween oggi? Beh, iniziamo che la cosa che mi fa pensare più Halloween sono... Ovviamente i numeri dispari, perché ovviamente non sono divisibili per due, e se metti insieme il 31 del 31 ottobre, a parte ottobre che non è dispari, ma se tu metti 31, sono 3 e 1, sono entrambi numeri dispari, quindi attenzione, secondo me, se tu provi a dividere un numero dispari, fare la divisione col numero dispari, succede che non hai mai un numero intero, lo hai sempre un numero decimale, quindi questo potrebbe essere paragonato ad Halloween, o qualsiasi altra cosa che potrebbe innescare la paura. E anche i numeri negativi, insieme a quelli dispari, si mettono a fare il gioco del dolcetto scherzetto. Se tu metti un numero negativo, ed è anche un numero dispari, fate attenzione che questo è il numero di Halloween. E non sto parlando del 666, io sto parlando del numero dispari negativo, che fa ancora più paura. E per concludere qua, questo era Halloween dei numeri. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Buon Halloween, buon Halloween, e tutti i numeri dispari vi vanno a inseguire stanotte, quelli negativi anche, buonanotte, buona serata, halloweeniani.